Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo dell'Alfa Romeo 8C 2300. Quest'auto è stata un vero e proprio gioiello di ingegneria negli anni 30, un'epoca in cui le competizioni automobilistiche stavano prendendo piede e i costruttori cercavano di superarsi a vicenda per creare vetture non solo potenti ma anche eleganti e tecnologicamente avanzate. Oggi vi guiderò attraverso la storia, le versioni, i trionfi nelle competizioni e tutto ciò che ha reso questa vettura così leggendaria. L'Alfa Romeo 8C 2300 è stata prodotta tra il 1931 e il 1934, un periodo in cui il mondo dell'automobile stava vivendo una rapida evoluzione. La necessità di maggiore velocità, potenza e affidabilità spingeva le case automobilistiche a creare un'auto sempre più performante. Alfa Romeo sotto la direzione tecnica di Vittorio Uliano riuscì a creare un'auto che non solo si adattava alle esigenze dell'epoca ma che le superava in molti aspetti. Il progetto dell'auto C 2300 era innovativo per una serie di motivi. Innanzitutto il motore, un 8 cilindri in linea con compressore volumetrico, una soluzione tecnica avvaziatissima per quei tempi. Il motore non solo offriva una grande potenza ma garantiva anche una fluidità e una coppia impressionanti. Questo permetteva all'auto di essere versatile, perfetta sia per la strada che per le competizioni. Inoltre l'auto C 2300 si inseriva in un contesto storico molto interessante. Gli anni 30 furono un'epoca in cui le corse automobilistiche stavano diventando un fenomeno globale e l'Alfa Romeo si affermava come uno dei costruttori più forti e competitivi. L'auto C divenne presto la vettura di riferimento per le gare di durata e per le competizioni iconiche come la 1000 miglia e la 24 ore di Le Mans. Passiamo ora ad uno degli aspetti più affascinanti dell'auto C 2300, il suo motore. Come suggerisce il nome, l'auto era equipaggiata con un motore a 8 cilindri in linea con un'unità da 2336 cm3. Questo motore era dotato di un compressore volumetrico che incrementava significativamente la potenza fino a raggiungere circa 155 cavalli. Oggi potrebbe sembrare poco, ma negli anni 30 era un dato impressionante. Considerando che stiamo parlando di un'auto che poteva superare i 200 km l'ora, una velocità che all'epoca era riservata a pochissime vetture. La scelta del compressore volumetrico era una decisione tecnologica, strategica. Il compressore garantiva una maggiore quantità di aria nei cilindri aumentando l'efficienza del motore e di conseguenza la sua potenza. Questo permetteva all'auto C di offrire prestazioni eccezionali sia in accelerazione che in velocità massima. Non solo, la fluidità del motore permetteva anche un'eccellente gestione della potenza, rendendo l'auto C incredibilmente maneggevole anche nelle competizioni più dure. Oltre al motore, anche la struttura dell'auto era all'avanguardia. Il telaio era costruito da tubi d'acciaio, un design leggero ma robusto che consentiva di ridurre il peso complessivo della vettura, senza comprometterne la rigidità. Il sistema di sospensioni era progettato per garantire stabilità e confort, sia su strada che in pista. Le freni a tamburo, pur essendo tecnologicamente semplici, erano sufficientemente potenti per gestire le elevate velocità raggiungibili. L'Alfa Romeo 8C 2300 non era solo un'auto dalle prestazioni impressionanti, era anche una vettura estremamente elegante. Il design della carrozzeria era risultato di collaborazioni, con alcuni dei più cerebri carrozzieri dell'epoca. Tra i nomi più noti troviamo Zagato, Turing, Superleggera e Castagna, che realizzarono versioni personalizzate dell'8C, rendendo un esemplare unico e raffinato. Le carrozzerie spaziavano da modelli spider aperti, ideali per le gare su circuito, e coupe chiusi perfetti per il gran turismo. Le linee erano morbide, aerodinamiche, con forme che bilanciavano perfettamente bellezza ed efficienza. Il frontale lungo affusolato, con la classica griglia forse o meno, conferiva all'auto un aspetto minaccioso e allo stesso tempo elegante. Mentre la coda corta, miglioravano la manovrabilità in curva. Un dettaglio importante del design era la carrozzeria. La leggerezza della carrozzeria, realizzata principalmente in alluminio, che permetteva di mantenere il peso complessivo dell'auto ridotto, migliorando le prestazioni sia su strada che in pista. Inoltre, ogni esemplare poteva essere personalizzato in base alle esigenze del cliente, rendendo l'auto C 2300 non solo una macchina da corsa, ma anche un oggetto del desiderio per collezionisti e gentleman driver dell'epoca. Parliamo ora di un aspetto cruciale nella storia dell'Alfa Romeo 8C 2300, Le competizioni Questa vettura non è stata solo una delle più belle auto mai costruite, ma anche una delle più vincenti. Tra il 1931 e il 1934, l'Otto C 2300, alcune delle competizioni più prestigiosi del mondo. Il trionfo più celebre fu quello alla 24 ore di Lehmann, dove l'Alfa Romeo 8C vinse per ben 4 anni consecutivi, dal 1931 al 1934. Questo straordinario risultato la consacrò come una delle auto più performanti e affidabili del periodo. La vettura, equipaggiata con un potente motore e 8 cilindri, e grazie alla sua eccezionale resistenza, si dimostra imbattibile nelle gare di durata. La 1000 miglia fu un'altra competizione che vide triunfare l'Alfa Romeo 8C 2300, la gara che si svolgeva su un percorso di oltre 1000 miglia attraverso l'Italia. Richiedeva non solo velocità, ma anche affidabilità e resistenza. L'8C con la sua perfetta combinazione di potenza, e maneggiavolezza, fu in grado di dominare anche su questo tracciato. Estremamente impegnativo, ma non finisce qui. L'8C 2300 partecipò a competizioni anche in altre... Partecipò e vinse anche in altre competizioni, come il Gran Premio di Monaco e il Gran Premio d'Italia. Tra i piloti che portarono a successo questa vettura ci furono nomi leggendari, come Tazio Nufolari e Luis Chirono, che contribuirono a scrivere la storia dell'automobilismo al volante di questa magnifica Alfa Romeo. Una delle versioni più famose dell'Alfa Romeo Tocci 2300 è sicuramente la Monza. Questa versione, sviluppata specificatamente per le competizioni sul circuito, rappresenta l'apice dell'ingegneria Alfa Romeo degli anni 30. La Monza era caratterizzata da un telaio corto, che migliorava la maneggiavolezza ed ha una carrozzeria leggera e aerodinamica. Il motore era lo stesso, 8 cilindri in linea, ma con un'interiore ottimizzazione per le gare, rendendo l'auto ancora più competitiva. La Monza fu protagonista di numerose vittorie nelle gare sul circuito e rimane una delle versioni più apprezzate dai collezionisti di auto storiche. Oggi l'Alfa Romeo Tocci 2300 Monza è considerata una delle auto da competizioni più iconiche di tutti i tempi, un simbolo del dominio dell'Alfa Romeo nelle corse degli anni 30. Il suo valore storico e collezionistico è immenso e gli esemplari rimasti sono tra i più ricercati al mondo. L'Alfa Romeo Tocci 2300 è considerata una delle prime vetture a rappresentare la perfetta fusione tra performance su pista e lusso su strada. Questa dualità ha definito l'Alfa Romeo come marchio, diventando un punto di riferimento per tutte le vetture sportive di alta gamma. Anche i modelli successivi come la 6C2500 e l'Auto C competizione del XXI secolo devono parte del loro DNA all'Auto C 2300. La stessa filosofia che ha guidato la creazione dell'Auto C con attenzione alla potenza, all'ingegneria di precisione e alla cura artigianale dei dettagli. Si riflette ancora dei modelli moderni. Alfa Romeo è riuscita a mantenere viva quella passione per la guida sportiva, creando vetture che combinano prestazioni elevate con un design elegante, caratteristiche che erano già evidenti nell'Auto C 2300. L'influenza di questa vettura non si limita però solo al marchio Farromeo, ma ha ispirato l'intera industria automobilistica. Il Farrome Auto C 2300 rappresenta molto di più di una semplice automobile. È un simbolo di innovazione, prestazioni e design che ha lasciato un segno inderebile nella storia dell'automobilismo. Il suo successo nelle competizioni, la bellezza del suo design e la raffinatezza tecnica ne hanno fatto una delle vetture più amate rispettate nel mondo delle auto d'epoca. È un'auto che ha superato la prova del tempo, non solo per il suo valore tecnico e meccanico, ma anche per l'impatto culturale che ha avuto. Che si tratti di amanti delle corse, di collezionisti o semplicemente di appassionati di auto, l'Alfa Romeo 8C 2300 continuerà a vivere nel cuore di chi ama le vetture che hanno fatto la storia. Grazie per aver guardato il video. Vi ringrazio per aver guardato il video. Naturalmente il video finisce qui. Vi ringrazio nuovamente. se volete vedere i nuovi video iscrivetevi al canale, lasciate like e attivate la campanellina per avere aggiornamenti sui nuovi video. E naturalmente nei commenti scrivetemi quale auto vorreste vedere nei prossimi video. E basta. Ci vediamo alla prossima. Ciao. One Once I rose above the noise and confusion Just to get a glimpse beyond this illusion I was soaring ever higher But I flew too high Though my eyes could see I still was a blind man Though my mind could think I still was a mad man I hear the voices when I'm dreaming I can hear them say Carry on Grazie a tutti Grazie a tutti